Il Consiglio Comunale di Loreto Aprutino revochi la cittadinanza onoraria all'ambasciatore russo Razov. È la richiesta avanzata dalla CERBA, periodico dell'area vestina, e che arriva in concomitanza della dichiarazione dell'ambasciatore russo, che invita l'Italia a ponderare bene le sue mosse. Era il novembre del 2018, quando attraverso l'intermediazione di Lorenzo Valorea, presidente dell'Associazione Amici della Russia e fautore dell'uscita dell'Italia dall'Unione Europea, il Comune di Loreto Aprutino conferì la cittadinanza onoraria all'ambasciatore russo. La volontà della cittadinanza conferita a Razov era quella di stabilire una relazione tra popoli che ha funzionato, funziona e funzionerà. Poi ecco, non è intenzione mia e nemmeno del Consiglio Comunale di Loreto prendere visibilità, un'occasione diciamo per poi entrare nelle croniche di questi giorni con un'azione così eclatante che mi sembra inutile e fuori luogo. Lei non pensa che revocare la cittadinanza onoraria all'ambasciatore russo possa essere un gesto di solidarietà per l'Ucraina? So che qualcuno ha scritto che i bambini di Loreto svendorano le bandierine russe. I bambini italiani, russi, ucraini vorrebbero giocare insieme e magari sperare che le nuove generazioni non facciano gli stessi errori. Non mi sento più onorato di aver conferito la cittadinanza all'ambasciatore quindi ritengo opportuno che il Consiglio Comunale all'unanimità faccia il passo indietro cioè revochi la cittadinanza che è una cittadinanza d'onore che oggi non c'è più in questa fase. Sono convindissimo nel revocare la cittadinanza. Revocare la cittadinanza ci sembra un attimo pesante come azione da parte del Consiglio Comunale di Loreto anche perché le premesse per questa cittadinanza onoraria al console c'erano tutte perché ci hanno manifestato, documentato anche, possibili scambi commerciali e soprattutto turismo per l'area Vestina e per Loreta Prutino. Poi c'è stato il Covid quindi non abbiamo avuto modo di constatare se questo ponte poteva funzionare o meno adesso revocarlo per un'azione di guerra ci sembra un attimo fuori luogo e vorremmo aspettare un attimo gli eventi e poi decidiamo insieme alla maggioranza cosa da farsi. La cittadinanza onoraria è un riconoscimento che una nazione o anche una collettività in questo caso anche un comune dà ad una persona che si contraddistingue sotto il profilo etico, morale o per qualche dote che condivide con la comunità che le dà il riconoscimento. La revoca è un fatto grave, vuol dire smentire quello che si è fatto in precedenza. Il contesto geopolitico attuale però mi fa ritenere che quantomeno una presa di posizione forte lo si debba fare.